Cari bambini, una piccola storia. Molti anni fa viveva in Erez Israel un uomo di nome Nahum. Però tutti lo chiamavano Nahum Ish Gamzo, l'uomo che diceva sempre anche questo. Perché questo strano soprannome? Perché Nahum diceva di ogni cosa che gli accadeva Gamzo le Tova. Anche questo è certamente una cosa buona mandata da Hashem. Lui non protestava mai. Tutto quello che gli succedeva nella vita, lui diceva sempre se Hashem vuole così vuol dire che è un bene. Accadde un giorno che i maestri di Erez Israel decisero di regalare un bel dono ad un re, un re straniero, in modo che questo re non inviasse più il suo potente esercito contro gli ebrei. Riempirono così una scatola con oro e diamanti. Chiusero la scatola con un bel nastro e decisero che a portare il regalo al re fosse proprio Nahum Ish Gamzo perché tutti lo conoscevano come un grande tzaddik, un giusto, che era molto educato, era molto gentile ed era molto onesto. e i Chachamim dissero sicuramente lui non prenderà da questa scatola neppure una moneta. Nahum Ish Gamzo salì dunque su una nave con il prezioso dono, poi scese dalla barca, montò su un asino e si avviò verso il palazzo del re. La città però era lontana e lui arrivò di notte in un piccolo paesino e andò a dormire in un piccolo albergo per poter riprendere il viaggio il giorno dopo. Pregò la tefillà di Arvit e quindi si addormentò. Il padrone dell'albergo e il fratello erano due uomini bugiardi, disonesti e avevano notato la bella cassa che era chiusa con un cordoncino elegante in mano di Nahum Ish Gamzo. E quando lo tzaddik si addormentò, i due entrarono nella camera, aprirono la cassetta e dopo aver rubato tutto l'oro e tutti i diamanti, riempirono la scatola con terra e sassi presi dal loro giardino. Richiusero quindi il contenitore con il nastro e se ne andarono a dormire. Al mattino, Nahum Ish Gamzo si svegliò, pregò la tefillà di Shachrit, prese la scatola e si avviò verso il palazzo reale. Fu portato dai soldati dal sovrano in persona e disse al re, Sire, ho per te un grande dono che ti è stato mandato dai maestri di Israele. Il re aprì allora la scatola e che cosa vi trovò? Sassi e terra. Il re si infuriò. Cominciò ad urlare, sei forse venuto a prendermi in giro? Questo è forse un regalo degno per un re? Guardie, chiudete per tutta la vita quest'uomo nella cella più piccola e più brutta della prigione. Nahum Ish Gamzo fu incatenato, ma mentre veniva portato verso la prigione, alzò gli occhi al cielo e disse, Gamzo Uli Tovà, anche questo è certamente un bene mandato da Hashem. Se Hashem mi fa capitare questo, vuol dire che c'è un motivo. Allora Hashem chiamò Eliyahu Anabì, il profeta Elia, e gli disse, vieni qui, scendi subito sulla terra e salva Nahum Ish Gamzo, è un grande tzaddik. Eliyahu Anabì giunse nel mondo e in un solo istante, travestito da ministro, entrò nel palazzo regale si recò dal re in persona e disse, oh re, perché ti sei arrabbiato con Nahum Ish Gamzo? Non sai forse che i maestri di Israele sono grandi saggi e mai ti avrebbero offeso mandandoti pietre e terra? Sicuramente ciò che è nella scatola ha un immenso valore. Prova a lanciare queste pietre e questa terra contro i tuoi nemici e sicuramente vincerai la guerra. Pensò un po' di tempo e un potente esercito con forti soldati attaccò i soldati del sovrano. Il re ordinò che i sassi e la terra portati da Nahum Ish Gamzo venissero lanciati in aria e ogni sasso, ogni granello di terra si tramutò in una pietra enorme che si scagliò sui nemici e così vinse la guerra. Fu così che il re fu ancora più temuto e rispettato di prima ed ebbe grande onore. Allora il sovrano ordinò di liberare immediatamente dalla prigione Nahum Ish Gamzo lo abbracciò e dopo averlo ringraziato gli donò una grande scatola piena di oro e diamanti da portare in dono ai maestri di Israele. Nahum Ish Gamzo si recò al Betacheneset della città più vicina e davanti all'Aron assieme agli ebrei del posto fece una tefillà e disse lo sapevo Gamzole Tovah tutto questo è stato certamente un bene mandato da Hashem. Ognuno in ciascun luogo parlò di ciò che era accaduto e del miracolo delle pietre e della terra che fecero vincere la guerra al re. Anche il padrone dell'albergo e il fratello che avevano rubato l'oro e i diamanti di Nahum Ish Gamzo ne vendero a conoscenza e pensarono wow avevamo nel nostro giardino pietre magiche e della terra affattata e non lo sapevamo ne porteremo un intero baule al re e così diventeremo ricchi e potenti ministri. Essi si recarono dal re in persona con molte pietre e tanta terra e dissero sì re con queste cose nessuno ti potrà mai vincere in battaglia. Passò del tempo e il re fu un'altra volta attaccato da un forte esercito così fece portare le pietre e la terra che aveva ricevuto in dono dai due fratelli disonesti ma queste cose ovviamente non si tramutarono in armi non si tramutarono in grosse pietre il re non solo perse la battaglia ma fu anche deriso dai nemici e dai suoi stessi sudditi che cominciarono a prenderlo in giro allora il re fece incatenare i due malviventi e ordinò guardie mettete questi uomini nella cellula più brutta della prigione fu così che costoro pagarono per la loro disonestà quando Nahum Ishgamzo venne a sapere quello che era accaduto lui insegnò agli suoi alunni vedete Hashem tutto quello che fa lo fa sempre per un motivo a me e ai maestri di Israele ha dato un grande premio ma a quelli che avevano rubato e che si sono comportati male Hashem gli ha mandato una punizione bisogna imparare a dire sempre quello che manda a Kadosh Baruch Hu è sempre una cosa bella importante per la nostra vita